bussa più forte come agisce la legge d'evoluzione commento la legge d'evoluzione prima bussa alla porta della nostra mente piano se tu non le rispondi bussa più forte se tu non le rispondi bussa ancora più forte se tu non le rispondi butta giù la porta con che cosa col dolore